La sicurezza sulle strade di Taranto, questa illustre sconosciuta, perché poi noi piangiamo i morti, ci lamentiamo degli incidenti, ma vi sono delle responsabilità precise dell'amministrazione comunale, delle omissioni in certi casi letali, portatrici di morte, di incidenti. Ci troviamo a Talzano, guardate Viale Europa, guardate qui l'Iperfamila e guardate anche la strada che io sto percorrendo, cammino qui, non c'è marciapiede, cammino sul ciglio della strada, guardate le macchine che vengono in senso opposto, lì di fronte c'è il marciapiede, più in fondo c'è il marciapiede, ma guardate in tutto questo tratto, ecco possiamo ritornare dove sto io ora, guardate, non c'è marciapiede, quindi prego anche l'operatore di stare attento a onde non essere così sbalzato in aria dalle macchine, ma ricordo anche che quest'area, vedete, fino a quel muretto lì, prima ancora del dissesto fu espropriata dal comune di Taranto appunto, parliamo dell'era, dell'epoca del dissesto, quindi dovremmo essere all'amministrazione subito dopo il dissesto, quindi l'amministrazione Stefano, credo, ma comunque in ogni caso fu fatto l'esproprio e fu espropriata l'area proprio per far sì che dal muretto che sta lì ci fosse lo spazio necessario per costruire il marciapiede e per non camminare sul ciglio della strada, perché se sto qui, cammino sul ciglio della strada e rischio di essere investito, viceversa con un margine più ampio, un tratto, una lingua più ampia di strada, appunto adibita, trasformata in marciapiede, proprio lo ripeto per essere chiaro, un questo tratto che arrivava fino a quel muretto, lo vedete il muretto fatto costruire come argine, come limitare, come limite dall'amministrazione comunale, in questo tratto a partire dal muretto dove stanno qui queste piante, qui doveva essere costruito un marciapiede, poi le vicende del dissesto, ma siamo usciti dal dissesto, no? Siamo usciti. Si spendono 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP, quindi non mi si può dire che mancano i soldi per costruire il marciapiede, una volta avvenuto l'esproprio. Sono all'interno dell'area dell'iperfamila e vedete qui è questo il muro che fu costruito dal comune proprio per limitare la zona attraverso l'esproprio e quindi da questo muro in poi in poi è area comunale, area pubblica sulla quale doveva essere costruito il marciapiede. È rimasto tutto abbandonato e qui le persone camminano, vengono investite, addirittura c'è stato un incidente mortale, ecco perché ho detto delle responsabilità delle omissioni mortali all'altezza del Bellevue, più in fondo di lì. Questo perché si cammina sul ciglio della strada, vedete? Quando invece con la realizzazione di un marciapiede, essendo l'area pubblica, l'area comunale arrivando fino al muretto e quindi ciò a seguito di esproprio, noi cammineremmo in grazia di Dio, cammineremmo tranquilli anche chi va a fare la spesa, chi cammina e quant'altro. Silenzio assoluto, ma evidentemente questa è un'amministrazione che non conosce la storia, non conosce il passato, gli uffici tecnici a un certo punto lasciano morire le carte nei cassetti fino a diventare impolverate le carte e peraltro qui anche in certi orari di sera più tardi, quando magari la circolazione è meno intensa, qui le macchine sfrecciano e quando le macchine sfrecciano tu che stai qui vieni sbalzato all'aria e non sono chiacchiere quelle che sto dicendo io, perché stiamo parlando di incidenti, tra cui un incidente mortale, quindi purtroppo quella che vi sto rappresentando è una triste realtà. Ancora una volta la solita domanda, ma cosa aspettiamo? Che ci scappi il morto? Guardate quella macchina che arriva, è uno che sta sul ciglio, basta una sbandata, basta qualcosa e si va a finire nell'altro mondo. Grazie a tutti.